Questa è la Shadow di DN8 di Riccardo Patrese che ha esordito nel 1977 con questa macchina. È di mia proprietà da un anno. Io corro nei rally dal 2000, nei rally storici, lancia Stratos, lancia rally 037, S4, lancia Delta, adesso Subaru WRC, è la seconda esperienza di gara, non ho esperienza, ho molti problemi a gestire il traffico perché non ho esperienza, non è la velocità pura ma è il traffico che mi limita, quindi faccio esperienza e dare il meglio di me stesso con un pubblico francese straordinario e eccezionale, tantissimi e mi ricordo che a Rally Duvar era uguale, un sacco di appassionati, un sacco veramente di appassionati del motorsport.